Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme i mostaccioli napoletani, dei morbidi biscotti al cacao speziati e ricoperti da un goloso guscio di cioccolato fondente. I mostaccioli sono tipici dolci della tradizione natalizia campana, preparati con qualche piccola differenza anche in altre regioni del sud e del centro Italia. Iscrivetevi al canale e dopo la musica partiamo subito con la ricetta. Innanzitutto prepariamo il pisto su una padella appena tolta dal fuoco, con un cucchiaino e mezzo di noce moscata, due cucchiaini di cannella, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano e mezzo cucchiaino di pepe. Il pisto si realizza miscelando e tostando insieme le spezie. Se avete la possibilità di usare un mortaio, sminuzzate insieme le spezie prima di tostare per alcuni secondi. Iniziamo a preparare l'impasto setacciando 300 g di farina 00 e 20 g di cacao amaro in polvere. Grattugiamo la buccia di un arancio biologico e aggiungiamo 150 g di zucchero semolato e aggiungiamo il mix di spezie che abbiamo precedentemente tostato. Sciogliamo in 150 ml di acqua un cucchiaino di bicarbonato di ammonio. Iniziamo ad impastare con il gancio a foglia a bassa velocità e versiamo l'acqua con la polvere lievitante. Mischiamo brevemente fino a quando otteniamo un impasto compatto e omogeneo. Lasciamo riposare l'impasto per 30 minuti coprendo con pellicola trasparente. Quindi lavoriamo l'impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato e lo stendiamo con il mattarello per ottenere un quadrato di pasta alto circa un centimetro. Tagliamo la pasta a formare dei rombi che disponiamo su una placca da forno coperta con carta da forno. Inforniamo in forno statico ben riscaldato a 180 gradi centigradi per 12 minuti. Lasciamo raffreddare i mostaccioli completamente. E per terminare la preparazione sciogliamo a bagnomaria 400 g di cioccolato fondente. Ricopriamo completamente i mostaccioli con uno strato abbondante di cioccolato fuso. Lasciamo solidificare il cioccolato e quindi possiamo servire o consumare i mostaccioli nel corso delle feste conservandoli in una scatola o un sacchetto. Se il video ti è piaciuto clicca mi piace, iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Lascia un commento per esprimere la tua opinione, fare domande o semplicemente lasciare un saluto. Grazie e arrivederci.